Mese del secolo... Ambrogio? Ehi! Senti, mi è venuta una fame particolare. Ti vai a piano con la porchetta? No, io avrei... No, la porchetta forse mi rimane sopra lo stomaco. Vorrei qualcosa di più... Particolare. Che cazzo vuoi? Eh, una cosa... Come spiegarti? Una cosa... Ho capito, signore, le famose pallotte. Ambrogio, come al solito, ne capito no cazzo di niente. Ciao, Sandra, mi sono sbagliato. La signora vuole le pallotte, non le pallotte.